Allora, il Tribunale in nome del popolo italiano, visto l'articolo 533 del codice di rito, dichiara Brad Lelmott e Mia Michele Mario, Moretti Mauro, colpevoli dei reati a loro rispettivamente contestati, unificati ai sensi dell'articolo 81 del codice penale e condanna Moretti Mauro e Castaldo Mario dalla pena di anni 7 di reclusione.